A 100 giorni dal suo insediamento, il sindaco di Alto Pascio, Sara D'Ambrosio, insieme alla Giunta, ha voluto stilare un primo bilancio del lavoro finora intrapreso. 100 giorni che, di fatto, considerando luglio ed agosto, si sono ridotti a 30 di lavoro effettivo, come sottolineato in sede di conferenza stampa. Punto centrale del lavoro della Giunta è stato quello dell'approvezione del bilancio e del reperimento all'interno delle sue pieghe di risorse inutilizzate, circa 240.000 euro. Altro punto toccato è stato quello del decoro urbano, con la lotta all'abbandono indiscriminato dei rifiuti grazie all'adozione di videosorveglianza nei punti critici del territorio e l'imbiancatura di 5 plessi scolastici su 9 presenti nel comune. Abbiamo riorganizzato una macchina comunale, questo vuol dire che se si parte bene ad amministrare e a gestire la propria casa, poi si porta fuori quello che vogliamo fare di buono. Ora si governa, ci sono 5 anni di fronte, stiamo lavorando al bilancio del 2017, vogliamo partire il prima possibile perché c'è tanto da fare, non possiamo più permettere ad Alto Pascio di avere un bilancio approvato a giugno e quindi partire con le spese a giugno. Ma la cosa che più si è notata con il cambio di amministrazione del comune del Tau è stato il diverso dialogo instaurato con la prefettura rispetto al tema dei migranti. Il problema non sono 15 migranti, il problema l'ho ereditato e lo sto gestendo ed è quello di una popolazione, di un'immigrazione molto alta che ha portato a una sensazione di insicurezza. Ci stiamo lavorando, si interviene integrando, cercando di rendere i quartieri più sicuri con illuminazione, decoro e un lavoro insieme, insieme a tutta la popolazione.